Bene ragazzi, benvenuti dal Voodoo, siamo tornati sulla seconda clip video Mi sto divertendo a giocare sto troppo, sto qua a giocare sul compito ma sto parlando un po' dietro Allora, hai guadagnato un punto potere, bene, quindi facciamo... Ah, ecco, punto abilità, punto potere No, un po' di supporto ci vuole È un po' di poteri conici, è un po' di supporto, questo qua va bene Qui Superman, ho visto come hai affrontato Bregnac e vorrei la tua assistenza per una questione urgente qui a Metropolis Per via degli attacchi di Bregnac, ci serve tutto l'aiuto possibile L'esercito di Gorilla Grodd incalza, devolvendogli uomini in scimmie Andiamo Dobbiamo fermarlo, prima che invada Metropolis E' appiccato lo suo pericolo, non devo ancora andare niente Mi resta di culo a proteggere me Non fanno un cazzo messo Oh, comunque, per chi ci gioca A DC Universe Online E' benvenuto a giocare con me, non so in quale server mi trovo ovviamente Bene Bene, l'ho trovato Abbiamo provato a fermare i Gorilla di Grodd sul lungomare di Queensland Ma usando una tecnologia che neppure i Laboratori Star hanno mai visto in azione Vedi cosa riesci a fare per fermarli Bene Bene Per via di PS3 Per via di PS3 Per via di PS4 Per via di PS4 abbiamo provato a fermare i gorilla di grod sul lungomare di queensland ma usando una tecnologia che neppure i laboratori star hanno mai visto in azione quelle truppe gorilla stanno intrappolando civili con dei congegni devolutivi di grod distruggili e indebolisci il suo esercito non so se portarla sul canale o no ma puoi andare pure a dire se ho già avuto a tutti gli altri video che mi piace guarda chi è differente non so se vuoi in giallo non so se vuoi in giallo non so se vuoi è un po' di bai fai, mhf sono sotto 4 gol questo non mi cadde volutino non mi cadde volutino non mi cadde volutino questo era mio quattro quelle truppe gorilla stanno intrappolando civili con dei congegni devolutivi di grod distruggili e indebolisci il suo esercito ora che il grosso delle forze di grod sono indebolite dobbiamo aiutare quei cittadini devoluti grod ha ammassato apparati neutrali sui tetti circostanti per rinforzare i suoi dispositivi di devoluzione neutralizza potrai creare un apparecchio che ne inverte l'effetto flash sta inseguendo grod nel suo nascondiglio è solo questione di tempo ormai vabbè aspetta prima l'arie ora c'abbiamo già scivoli l'arie e me ne fate andare cazzo ma perchè la ricadrezza non è bene non mi cazzo vanno in giallo vabbè andiamo lo dico eh qua se si tirano la trippa non è colpa mia ho visto i tecnici gorilla i fai sono sulle piattaforme si è stato fuori attivazione nella barattua neurale sovrastrittura dei processi mentali attenzione proponenti principali sovrastrani con i posti sovrastrani con i posti attenzione 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 adesso mi passaggio apparato neurale attivato traspissioni dei segnali di controllo mentale potremmo ma il funzionamento dell'apparato di controllo mentale sostituire i componenti macchi per avversare il sovrastrani che si iniziano oppure ma il funzionamento il sistema in risconto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.